Penso che la poesia debba essere innanzitutto utile, utile a tutta l'umanità, utile a una classe, a un popolo, a una sola persona, utile a una causa, utile all'orecchio. Voglio essere capito e letto dal maggior numero possibile di persone, ai più vari livelli di cultura, nei più diversi stati d'animo dalle prossime generazioni. Voglio essere traducibile per i popoli più diversi. Credo che la forma sia perfetta quando dà la possibilità di creare il ponte più solido e comodo tra me, poeta e lettore. Detesto non solo le celle delle prigioni, ma anche quelle dell'arte, dove si sta in pochi o da soli. Sono per la chiarezza, senza ombra, del sole allo zenit che non nasconde nulla del bene e del male. Se la poesia regge questa gran luce, allora è vera poesia.